L'Ombelico del Mondo è un noto beach bar situato a Mondello, una delle località balneari più rinomate della Sicilia, non lontano da Palermo. Questo stabilimento è molto apprezzato sia dai residenti che dai turisti, grazie alla sua posizione privilegiata e all'atmosfera vivace che offre. L'Ombelico del Mondo è aperto stagionalmente dal 15 febbraio al 6 gennaio e non accetta prenotazioni, il che contribuisce a un'atmosfera informale e accogliente. I visitatori possono godere di una vasta gamma di servizi, tra cui il noleggio di ombrelloni e lettini, rendendo la spiaggia un luogo ideale per rilassarsi e godere del sole siciliano. La vicinanza al Porticciolo offre anche opportunità per esplorare la zona circostante, con negozi, bar e ristoranti facilmente accessibili. Il beach bar è noto per la sua offerta gastronomica, che include piatti tipici siciliani e una selezione di bevande rinfrescanti. I clienti possono gustare cocktail esotici e piatti a base di pesce fresco, il tutto mentre si godono una vista mozzafiato sulla spiaggia e sul mare. Questo aspetto culinario è uno dei motivi principali per cui l'Ombelico del Mondo attira una clientela variegata, dai giovani alle famiglie, fino ai turisti, in cerca di un'esperienza autentica. Come al solito, qui in basso, in descrizione, troverete dei link utili e delle offerte a voi dedicate. Ci vediamo al prossimo video, ciao!